Tanto rosso e blu agli Oscar del calcio Umbri con premi a Gubbio Calcio, Mister Maggio e Ferri Marini. Questa sera speciale sull'evento alle 21 su TRG, intanto croce è in dubbio per la San Benedettese. Tennis presentati a Palazzo Donini, tre grandi tornei estivi internazionali ATP e ITF che si terranno a Perugia, Todi e Gubbio. Basket, C-Silver, Val di Ceppo crolla a Siena, ora riscatto contro Cagliari. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione sportiva di TRG Apertura dedicata al calcio e alla Serie D. Il Gubbio è sempre più proiettato alla sfida di domenica contro la San Benedettese alla Rivera delle Palme con fischio d'inizio previsto per le 16 che decreterà l'ultima semifinalista della Polscudetto con la compagine Ugubina che può vantare due risultati su tre rispetto ai marchigiani. In dubbio croce a causa del riacutizzarsi di una botta al ginocchio ricevuta nell'ultima partita con il Parma ma Maggi spera di recuperarlo nelle prossime sedute, altrimenti spazio a Bualì in regia, mossa che consentirebbe a Bartocini di rilevare Calombo sulla corsia destra difensiva. Nella San Benedettese out il centrocampista Sabatino per squalifica, intanto dopo la rinuncia del Parma sarà la Toscana la sede della fase finale di Polscudetto, le semifinali si disputeranno di fatti nell'impianto Due Strade di Firenze e a Pontedera mentre la finalissima si terrà allo stadio dei Pini di Viareggio. Stasera non perdete lo speciale curato da Giacomo Marinelli Andreoli sul Gran Galà del Calcio Umbro dove l'Oscar 2016 è andato proprio al cannoniere rosso-blu Ferri Marini ma riconoscimenti anche per la società eugubina e Mister Maggi. In programma anche l'intervista ad alcuni personaggi di spicco del calcio nazionale come Gian Piero Ventura, Walter Novellino, Salvatore Bagni e Beppe Bergomi. Lo speciale su Gran Galà del Calcio Umbro che si è svolto al Centro Combrassi 4 Torri di Perugia andrà in onda questa sera alle 21 su TRG. In Serie B c'è ancora da attendere per quanto riguarda l'ufficialità di Christian Bucchi come nuovo allenatore del Perugia. Il tecnico romano di fatti deve prima liberarsi del contratto che lo lega alla Maceratese e non è esclusa in tal senso una mediazione del presidente Santo Padre con la presidentessa marchigiana Tardella. Possibile che la situazione venga risolta nei primi giorni della prossima settimana tanto che il direttore dell'area tecnica Biancorosso Agoretti è già al lavoro per quanto concerne il mercato. Trattative aperte con gli attaccanti Donnarumma e Caccavallo in uscita rispettivamente da Salernitana e Paganese mentre c'è la volontà di trattenere a Perugia il difensore Mancini e l'attaccante Aguirre. E passiamo ora al volley ufficializzato. Il primo nuovo arrivo in casa Sir Safety Conad Perugia anche se in verità si tratta di un ritorno. Torna in bianco e nero il 25enne palleggiatore serbo Mijlo Mito Mitic che fungerà da preziosa alternativa di qualità al titolare De Cecco. Mitic è stato già a Perugia con Kovac allenatore nella stagione 2013-2014 conquistando la finale in Coppa Italia e poi la finalissima Scudetto ed è reduce da due stagioni da palleggiatore titolare prima in Francia e poi in Libano dove ha conquistato il titolo nazionale. E parliamo ora di tennis perché si è svolta a Perugia la presentazione dei principali tornei estivi umbri che avranno sede a Perugia, Todi e Gubbio. Sentiamo. Presentazione ufficiale avvenuta presso la Sala d'Onore di Palazzo Donini a Perugia dei tre main event che caratterizzeranno l'estate tennistica umbra alla presenza dei massimi esponenti sede dell'Associazione Tennisti Professionisti che del MEF Tennis Events, società organizzatrice di Marcello Marchesini. Si partirà di fatti con due tornei ATP Challenger a Perugia e Todi nello specifico gli internazionali città di Perugia Blue Panorama Tennis Cup organizzato dal Tennis Club Perugia ed in programma dall'11 al 19 giugno e gli internazionali di tennis dell'Umbria Distal e i TR Tennis Club che faranno ospitati dal Tennis Club Todi dal 2 al 10 luglio il tutto per arrivare agli attesissimi internazionali di tennis città di Gubbio che fanno parte del circuito ITF e che sostituiscono lo storico torneo Open in città di Gubbio l'evento si svolgerà dal 16 al 24 luglio fu organizzazione del circolo Tennis Gubbio prevista in tre tornei la partecipazione di alcuni dei migliori tennisti emergenti veterani del panorama italiano ed internazionale. Per una regione come l'Umbria credo che sia veramente una cosa eccezionale avere due challenger un ATF ci sarà il primo ATF quest'anno a Gubbio un circolo molto importante che si staranno molto da fare che dentro il quale insomma la MEF di Marcello Marchesini organizzerà questo ATF Perugia sarà il secondo anno Todi quest'anno sarà addirittura il decennale quindi oramai una tradizione consolidata e crediamo che Perugia possa avere una tradizione ancora più importante visto insomma la storia che c'è all'interno di questo club. Parliamo ora di basket per fare il punto in casa a Val di Ceppo dopo il quarto turno della fase nazionale di C-Silver il servizio. La Fatal Siena Siccome a Val di Ceppo crolla anche al Palavi Valdi nella quarta giornata della fase nazionale di C-Silver ancora contro la Virtus Siena ed ancora con 28 punti di scarto vedendo così il primo posto del girone seriamente compromesso. Coach Pierotti non poteva contare su due pedine focali come Meccoli Urbini ma li trovava dopo una lunga assenza Giovagnoli inizio shock per i ponteggiani sotto 14-4 nel primo quarto ma capaci per di adattarsi difensivamente soprattutto alle evoluzioni in post-basso Toscane e di trovare punti rapidi in campo aperto sfruttando l'uno contro uno degli esterni e Val di Ceppo con un sontuoso controparziale e sopra di uno dopo i primi dieci minuti. L'incipit del secondo quarto sembra ancora essere ben augurante per i perugini ma Siena si scuote sia sul perimetro con le tipi di Impro e Benelli che vicino a Canestro grazie a Olleia e Zeneli e all'intervallo lungo il team senese conduce di 12 punti. Ad inizio terzo quarto Val di Ceppo con orgoglio e talento rientra sino a meno 4 grazie ad una rimonta ispirata da Capitan Casuscelli ma prima un tecnico Orlandi e poi un fallo in attacco assai interlocutorio fischiato a Meschini ridanno in là alla fuga decisiva di Siena capace di portarsi sul più 16 a 10 minuti dalla fine. L'ultimo quarto diventa poi di pura accademia anche perché Val di Ceppo ha staccato la spina e la Virtus trionfa con il punteggio finale di 82-54. Siena scappa così in vetta da sola a quota 6 punti mentre Val di Ceppo viene raggiunta a quota 4 da Tolentino capace di annientare Cagliari per 92-52 per questo un posto finale che darebbe la certezza del salto in binazionale è al momento una chimera ma il quintetto di Paolo Pierotti è chiamata a vincere le due restanti partite per restare in corsa sino alla fine se non arriverà il primato c'è comunque la possibilità di chiudere in seconda piazza che garantisce lo spareggio in campo neutro al cospetto di un'altra seconda di un altro girone ora però l'obiettivo primario per la Sicoma è preparare al meglio la prossima gara fissata per domenica all'ore 15 al Palacestellini di Ponte San Giovanni al cospetto di Cagliari un orario insolito dovuto alla logistica aerea che permetterà ai sardi di tornare a casa già in serata ma soprattutto un match dove sarà importantissimo ritrovare il risultato ma anche fornire una prestazione continua e senza pause al fine di ritrovare la giusta autostima e determinazione per provare a raggiungere l'obiettivo Serie B e in chiusura parliamo di motori la scuderia Speed Motor Gubbio è in marcia per la Carni in Alto Friuli dove sabato 28 e domenica 29 maggio va in scena la 47esima edizione della crono scalata Verzegnis Sella Cianzutan tappa numero 3 del campionato italiano di velocità in montagna 2016 un appuntamento di cartello della specialità se soltanto si pensa che vi sono ben 306 piloti iscritti anche se 91 di provenienza straniera ben 5 i portocolori del team di patron Tiziano Brunetti presenti a Verzegnis tutti chiamati a prestazioni di un certo livello per potersi garantire il risultato dopo il quinto posto assoluto di Fasano si attende una bella conferma da Michele Fattorini nel gruppo Formula toccherà invece al Trentino Adolfo Bottura mentre nella classe 2000 ci sarà Giancarlo Graziosi esordio stagionale per il Ravennate Franco Manzoni a completare il quadro della scuderia Eugubina ci sarà a Verzegnis anche il marchigiano Marco Sbrollini ed è tutto anche per il nostro TG Sport grazie per averci seguito e buona serata arrivederci a presto grazie a tutti a presto Autore dei sovrapposti